prossimo, perché è nel volto dell'altro che vedremo sempre il nostro Signore. Amen. Chiudo questa parentesi anche perché il testo, la meditazione che ho nel mio cuore parla di cose scritte e non abbiamo tempo a sofficienza per leggere l'intero capitolo che è davanti a me, ma partirò dai primi versi per riflettere, ripercorrere con voi la storia che è racchiusa nel capitolo 36. Leggiamo dal capitolo 36 del profeta Geremia, libro del profeta Geremia, capitolo 36. Leggerò i primi tre versi, poi lascio a voi la possibilità di tenere la Bibbia aperta o, se preferite, successivamente di leggere nella sua interezza il capitolo che io ripercorrò per evidenziare i punti salienti di questa storia. Leggo dal primo verso, addio sia la gloria. Ora venne nel quarto anno di Jehoiachim, figlio di Giosia, re di Giuda, che questa parola fu rivolta dall'eterno a Geremia, dicendo, prenditi un rotolo da scrivere e scrivi su di esso tutte le parole che ti ho detto contro Israele, contro Giuda e contro tutte le nazioni, dal giorno in cui ti ho parlato, dai giorni di Giosia fino a questo giorno. Forse la casa di Giuda udrà tutto il male che io penso di far loro e si ritrarrà ciascuno dalla propria via malvaggia e così io perdonerò la loro iniquità e il loro peccato. Vi leggo anche il verso 4. Allora Geremia chiamò Baruch, figlio di Neria, e Baruch scrisse su un rotolo per scrivere sotto dettatura di Geremia tutte le parole che l'Eterno gli aveva detto. Siamo in un periodo della storia di Israele con la minaccia babilonese alle porte, Geremia che è una voce contraria tra i profeti del regno, ma siamo in un paese, Giuda, che ha conosciuto sotto il re Giosia, che qui viene richiamato perché è al governo suo figlio, Gioia Kim, Giosia era il re buono e giusto che ritrovò la legge di Mosè e diede nuovo slancio alla spiritualità di un popolo che si era deviato nel tempo. E Geremia vive questa esperienza del re Giosia quando è un fanciullo, quando è un ragazzo, quando probabilmente fa quell'esperienza, non sappiamo se di giorno o di notte, in cui Dio lo chiama al suo servizio. A distanza di anni, in cui Geremia è diventata la voce del profeta dell'Eterno in mezzo al suo popolo, una voce però osteggiata perché il parlare di Geremia non era gradito ai governanti. Geremia non fa parte della cerchia di quelli che sono definiti i falsi profeti, di quelli che parlano per allietare le orecchie di chi li ascolta. Ed è per questo che Geremia è stato allontanato dal Tempio. E' per questo che a Geremia è stato impedito di arrivare alla presenza del re. Non lo vogliono né i religiosi e non lo vogliono neanche i politici. E in quel tempo, così come anche oggi, spesso, per cambiare una società, occorre riuscire a parlare al cuore e alla testa di quelli che sono al di sopra, di quelli che possono fare leggi, di quelli che possono condizionare la vita quotidiana nel bene e nel male. E in questa situazione di impedimento, Geremia è impedito, ma non Dio. Geremia è ostacolato, ma non Dio. Il quale parla al suo profeta e gli dice, attualizzo la cosa, non puoi andare al Tempio, non puoi andare alla reggia, semplice, c'è sempre una soluzione. Ad ogni situazione complicata, tu non dimenticare che c'è sempre un rimedio. E Dio dice a Geremia, prendi un rotolo, scrivi, metti per iscritto le cose che io ti ho detto dall'inizio, da quando c'era Giosia, fino a questi giorni, mettile per iscritto. perché probabilmente la casa di Giuda, leggendo le parole che tu scriverai, si pentiranno. e questa è una prima lezione per noi. Non sono le nostre parole, non è la nostra presenza ad avere la potenza e la capacità di cambiare una società o la vita di qualcuno, ma è la parola di Dio. E' la parola di Dio. E' soltanto la parola di Dio che nell'esser letta e ascoltata può cambiare il cuore e la mente delle persone. E Geremia probabilmente questo non l'aveva ancora compreso. E Dio gli dice metti per iscritto, prendi un rotolo, scrivi. Geremia scrive, anzi, detta. Abbiamo davanti a noi, in questa storia, anche una sintesi, un racconto, che ci aiuta a capire come la parola di Dio si è formata ed è giunta ai nostri giorni. Così come Mosè, così i profeti, la parola che avevano ricevuta, a un certo punto hanno sentito il bisogno di metterla per iscritto. I latini ci diranno verba volant, scripta manent. Le parole volano, le parole se le porta il vento, quelle scritte invece in un modo o nell'altro rimangono, sono impresse. E quindi anche tu che oggi sei il portatore, il latore di quelle parole, oggi tu ci sei, ma quando domani tu non ci sarai, le parole rimarranno, cielo e terra passeranno. ma la mia parola rimane in eterna e sapete perché? Perché non è più verba, ma è diventata scripta. È una parola incisa, scritta, messa per l'eternità. Geremia non scrive da solo, Geremia è colui che ha ascoltato la parola, ma chiama Baruch, che è uno scriba, è un pubblico ufficiale. Il tempo non ci consente di entrare nelle relazioni anche politiche tra le famiglie del tempo. Ma riflettiamo su questo. Geremia ha ascoltato, Geremia ha ricevuto l'ordine di mettere per iscritto, però Geremia non lo fa lui direttamente, ma chiama un testimone, chiama un altro, ad ascoltare ciò che Dio aveva detto a lui. Geremia usa un filtro. Tante volte quello che noi ascoltiamo, sentiamo, percepiamo, viviamo nella nostra interiorità ha bisogno della conferma di un altro, ha bisogno di un compagno con cui condividere le nostre emozioni, sensazioni e anche visioni. C'è bisogno di un altro che metta per iscritto, che ascolti, che vagli, che solletichi anche il dubbio. E provate a immaginare quello che da questo momento succede tra Geremia e Baruch, che si chiudono in una stanza. Geremia comincia a raccontare cose risalenti a 20, a 30 anni prima. E Baruch che non c'era. Secondo voi pensate che Geremia parlava e Baruch scriveva? Quante volte avrà messo un punto, una virgola, anche se non le aveva nella sua lingua e avrà detto Geremia, ma tu di questa cosa sei sicuro? Fammi capire come sono andate le cose. Cosa ti ha raccontato il Signore. E questo è quello che accadrà anche con gli scrittori del Nuovo Testamento. è importante che quello che noi ascoltiamo, che quello che noi abbiamo dentro, non ne facciamo un vessillo personale, ma lo condividiamo con altri. Che abbiamo anche l'umiltà di sottoporlo all'opinione di un altro. Di un altro alla nostra misura, di un altro di statura anche superiore alla nostra che ci possa dire sì, è proprio così. Quello che tu hai ascoltato, quello che tu senti è così. Continua. Geremia farà questo lavoro con Baruch e il testo ci dice un bel po' più avanti, abbiamo letto nel quarto anno di Jeho Iachim, se leggerete al verso nove c'è scritto nel quinto anno. nel nono mese quindi un anno dopo probabilmente un anno e diversi mesi dopo Baruch andrà a leggere il rotolo nel Tempio. Ci sono cose che hanno bisogno di tempo. È passato più di un anno quando Geremia comincia questo lavoro di dettatura e di trascrizione insieme a Baruch. Fratello, sorella cara, niente nasce dalla sera alla mattina. Tanto più la parola di Dio, tanto più una visione, una chiamata, una conversione, un percorso di liberazione ha bisogno del suo tempo. e Geremia dedica il tempo necessario a questo lavoro e più di un anno dopo ci sarà un'occasione, c'è una festa al Tempio di Gerusalemme, c'è un giorno di digiuno, è un'occasione speciale, ci saranno persone e Baruch andrà al Tempio e andrà a leggere il rotolo che non è il rotolo di Baruch, sì Baruch l'ha scritto, ma è il rotolo contenente le parole dettate da Geremia ma non sono le parole di Geremia sono le parole che l'Eterno ha detto a Geremia che Geremia ha dettate a Baruch che Baruch ha scritto ed ora le va a leggere ed è quello che accade ancora oggi con la parola di Dio Dio ha parlato uomini hanno scritto altri leggono e poi lo spirito prende questa parola e le dà vita nella nostra interiorità fa sì che questa parola prende una dimensione nuova fa sì che questa parola scuota le nostre coscienze e quel giorno Baruch legge questa parola nella casa dell'Eterno e che cosa accade? che tra la gente che c'è presente al Tempio c'è qualcuno che appartiene alla famiglia dei principi c'è il figlio di un notabile del tempo che ascolta le parole di Geremia lette da Baruch ed è colpito e che cosa fa? Micaiah verso 13 Micaiah riferì loro ai principi del popolo tutte le parole che aveva udito mentre Baruch leggeva il libro agli orecchi del popolo è bastato un solo uomo raggiunto dalla parola di Dio e Dio è arrivato dove aveva deciso di arrivare senza poter usare Geremia nessuno di noi è indispensabile per l'opera del Signore anche un profeta come Geremia anche un uomo che si rodeva nel suo interiore perché c'era un fuoco che non gli consentiva di rimanere in silenzio era pronto e ha messo la sua vita a repentaglio diverse volte ma quando le circostanze sono diventate delle barriere insormontabili gli uomini noi saremmo impediti ma Dio continuerà a parlare ai cuori Dio continuerà a parlare alle coscienze la parola di Dio continuerà ad abbattere muri barriere ad arrivare nelle stanze segrete Micaiah ascolta Baruch torna da suo padre dagli altri principi e dice io ho ascoltato delle parole che voi dovete ascoltare quello che le mie orecchie hanno udita ha toccato il mio cuore c'è qualcuno qui che dice parole diverse dal re c'è qualcuno che qui parla di una situazione che noi stiamo ignorando perché la parola di Dio è in grado di gettare la luce dove rignano le tenebre la parola di Dio è capace di accendere la luce nel buio più profondo essi gli dissero dopo aver mandato a chiamare Baruch gli dissero siediti leggilo davanti a noi com'è bello quando qualcuno ti chiama e ti dice leggimi la parola di Dio dimmi qualcosa di Dio parlami del Signore Gesù quando udirono tutte quelle parole verso 16 ebbero paura sì per molti la parola di Dio fa questo effetto fa paura perché quando la parola di Dio rivela la nostra condizione che è la condizione di uomini e di donne perduti lontani dalla misericordia di Dio il primo il primo impatto che la scrittura genera su ciascuno di noi è paura ed è la paura che è figlia del sapersi condannati del dire sono un uomo perduto ricordate l'espressione di Isaia nella visione del trono di Dio ai povero me sono perduto davanti alla visione del santo ci riscopriamo impuri e indegni forse oggi si preferisce una parola che è tutta grazia tutta bontà tutta gentilezza ma il Vangelo è ravvedetevi 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 e credete all'Evangelo prendete coscienza della vostra condizione questi uomini cominciano a investigare in Baruch chi ti ha dettato queste parole da dove vengono sono parole di Geremia sono le parole che egli mi ha dettato con la sua stessa bocca e io le ho scritte con inchiostro nel libro allora i principi dissero a Baruch va nasconditi insieme a Geremia e nessuno sappia dove siete ci saranno sempre momenti della storia dove predicare la parola di Dio dove menzionare la scrittura sarà pericoloso però ci sarà sempre qualcuno disposto a proteggere quelli che parlano nel nome del Signore in tutti i paesi dove c'è persecuzione dove c'è opposizione all'Evangelo c'è sempre un'anima buona pronta ad aprire le proprie stanze per ospitare per nascondere chi predica la parola di Dio lo è stato nel passato lo sarà anche nel futuro ma qui c'è un'altra realtà questi principi cominciano a mettere in dubbio la posizione del loro re e sanno che la vita di Baruch e Geremia potrebbe essere minacciata di morte dal re che non condivide quelle parole però vanno dal re verso 20 andarono dal re questa volta sono i principi nel cortile dopo aver riposto il rotolo nella camera di Elisciama lo scribba cioè Baruch e Geremia vengono fatti nascondere però il rotolo se lo prendono i principi vanno dal re e gli dicono quello che è scritto nel rotolo il re non vuole sentire i principi e allora mandò gli Eudi a prendere il rotolo ed egli lo prese dalla camera di Elisciama lo scribba quindi gli Eudi lo lesse agli orecchi del re guardate la parola deve essere sempre letta da un altro il re non legge da solo non è che non sa leggere la fede viene dall'udire la fede non viene da leggere la scrittura non dice la fede viene da leggere la scrittura dice la fede viene dall'udire ci deve essere una voce estranea esterna a noi che legge che predica che commenta la parola del Signore e quindi da Geremia da Baruch da Micaiah dai principi arriviamo al figlio di uno dei principi gli Eudi che legge questa parola al re e mentre il re stava seduto nel suo palazzo con un braciere che ardeva davanti a lui quando gli Eudine ebbe letto tre o quattro colonne il re lo tagliò col coltellino da scriba e lo gettò nel fuoco che era nel braciere c'è un uomo con il rotolo in mano tenete presente il rotolo srotolato con due pezzi uno in una mano uno in un'altro provate ad immaginare questa scena gli Eudi che tiene il rotolo e legge una colonna legge la seconda legge la terza legge la quarta mentre sta continuando a leggere il re Jehoiachim prende il coltellino dello scriba dal tavolino di Jehudi e mentre Jehudi sta leggendo ficca il coltellino nel rotolo e scende fino a sotto immaginate gli Eudi con il rotolo in mano e sai che di fronte hai il re con il coltello dice questo dopo il rotolo taglia un primo pezzo il re afferra il rotolo e ne taglia un secondo fa un altro pezzetto e mentre gli Eudi è lì di ghiaccio impalato il re prende quel rotolo c'è il braciere accanto a lui e fa come si dice a Napoli una lampa di fuoco la parola non sortisce sempre conversione spesso la parola sortisce ribellione quando quello che si ascolta non piace ci si arrappia si diventa cattivi e voi ricordate che è scritto che la parola di Dio è una spada a due taglie Gioia chi ma ha un taglierino con una sola lama che taglia il rotolo e lo getta nel fuoco la parola di Dio è una spada a doppio taglio capace di scendere nelle nostre profondità fino a dividere la nostra parte più intima ed è quello che anche quel giorno la parola sta facendo nella vita di Ioiachim che a leggere le parole che Dio aveva data a Geremia lo mette in subbuglio comincia a muovere qualcosa dentro di lui a lui non piace ad alcuni la parola scuote la coscienza a qualcun altro mette in moto la rabbia a noi non interessa quale sarà la reazione a noi interessa che la parola sia annunciata andate andate e predicate l'Evangelo ad ogni creatore quelli che poi crederanno ne guadagneranno salvezza quelli che non avranno creduto saranno persi ma noi siamo andati e abbiamo predicato e davanti alla reazione di Yehudi nel re né alcuno dei suoi servi che udirono tutte queste parole si spaventarono o si stracciarono le vesti quando un po' di anni prima e Giosia trovare i rotoli della legge il re si spogliò stracciò le sue vesti fece pentimento si ravvide e chi non straccia le vesti straccia la parola ed è quello che purtroppo ancora oggi continua ad accadere quando non piace una pagina della Bibbia viene strappata o viene piegata per non essere più letta e allora noi penseremmo che non c'è speranza per i predicatori e c'è di peggio gli Ehoiachim non si fermò lì il re ordinò verso 26 a Yeramel figlio del re a Serai figlio di Azriel e esce la mia figlio di Abdel di prendere Baruch lo scriba il profeta Geremia non solo la parola doveva essere bruciata ma i portatori dovevano morire e allora io voglio far presente ai conservi ai giovani ai discepoli alla chiesa tutta di non aver timore di predicare il Vangelo qualunque sia il tempo che stiamo vivendo perché per te e per me c'è un inciso nel verso 26 evidenzialo il verso 26 dice quando il re manda a prendere Geremia e Baruch c'è scritto segnatelo ma l'Eterno li nascose non li poterono trovare l'Eterno li nascose Dio ha cura di noi Dio protegge i suoi servi e la storia non finisce qui perché gli uomini nei secoli hanno dato fuoco alla scrittura per arrivare ai nostri giorni lo hanno fatto i nazisti insieme ai tanti libri bruciati c'erano anche le Bibbie dopo che il re ebbe bruciato il rotolo e le parole che Baruch aveva scritto sotto dettatura di Geremia la parola dell'Eterno fu rivolta a Geremia dicendo prendi di nuovo un altro rotolo e scrivi su di esso tutte le parole di prima fratello sorella qualunque sarà l'opposizione Dio è colui che ti nasconde e quando gli altri distruggeranno quello che tu hai fatto per lui non pensare che Dio si arrende anzi si ricomincia da capo Dio non si ferma e non si stanca di ricominciare da capo ed ogni volta che si ricomincia da capo vi leggo l'ultimo verso del capitolo Geremia quindi prese un altro rotolo lo diede a Baruch lo scribe il quale scrisse su di esso sotto dettatura di Geremia tutte le parole del libro che Ioachim aveva bruciato nel fuoco tutto vi furono inoltre aggiunte molte altre parole quello che gli uomini cercano di distruggere Dio lo rifà da capo e lo fa più bello è più grande ed è questa la ricchezza di quando le cose si rifanno da capo non pensare se stai vivendo una desolazione un momento di sconcerto che è arrivata la risa no se Dio è al tuo fianco se quello che hai fatto era per lui non disperare non demordere ricominciamo da capo perché quello che ne verrà fuori è come il tempio lo splendore del tempio era maggiore del precedente nel libro degli atti tutte le volte che la chiesa ha incontrato la persecuzione Luca scrive che la chiesa cresceva e moltiplicava più l'opera di Dio incontra l'opposizione più lo spirito la fa crescere e la fa moltiplicare è una parola personale forse per qualcuno se come Geremia pensavi di aver lavorato inutilmente ti sei sbagliato ricomincia da capo ricomincia da capo perché per la grazia di Dio viviamo un tempo in cui il Signore ci dà una nuova opportunità e fin quando siamo nella grazia ci sarà tempo per ricominciare per ricominciare a scrivere anche il libro della nostra vita ricomincia a scrivere il libro della tua storia perché forse il re che ti dominava ha detto sei finito sei bruciato sei carta straccia ma Dio ha raccolto la carta straccia Dio ha raccolto la cenere dal braciere vi ha soffiato sopra e ti ha dato un nuovo rotolo e oggi ricorda a me e ricorda a te scrivi scrivi da capo ricomincia Dio ti benedica Amen grazie 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 Grazie.